venite a trovarci nel nostro showroom Tirregna Auto, la piattaforma dell'auto la cavese seconda nel girone H del campionato di serie D può sperare ancora nella promozione in serie C ma per dare seguito a quella che è un'aspirazione maturata in pratica negli ultimi mesi dovrà cercare di vincere anche domenica prossima poi anche nella gara successiva, in quella ancora seguente e così via sperando in qualche incidente di percorso da parte del Potenza che in questo momento è meritatamente al vertice del girone nella quarta giornata di ritorno i bianco-blu avranno una partita tutt'altro che agevole dovranno affrontare l'Altamura che è la quarta forza del campionato sicuramente una partita più difficile rispetto a quella che avrà il Potenza impegnato a Manfredonia contro quella che è la penultima forza del campionato stesso sarà difficile anche il match del Cerignola che andrà a Taranto per affrontare la compagine rosso-blu reduce da quattro successi di fila tra l'altro i giallo-blu dovranno giocare allo Iacovone senza Herrera e senza Donnarumma squalificati da oggi la cavese di mister Leonardo Bitetto si prepara a quella che sarà appunto una sorta di finale se vincerà sul team Altamura potrà riuscire a mantenere quantomeno inalterato il distacco dal primo posto mentre un pareggio potrebbe non aiutare né i metelliani e tanto meno gli altamurani che nelle ultime settimane si sono staccati dal primato avendo raccolto solo quattro punti nelle ultime quattro gare Domenica al Simone Talamberti ci si aspetta il pubblico delle grandi occasioni proprio perché in palio ci saranno punti importantissimi ed è ancora possibile sottoscrivere i mini abbonamenti per quei sostenitori bianco-blu che ci credono